Intanto benvenuto a Teramo, io credo che sia una cosa che chi opera nel calcio l'avrebbe pronosticata poco, no? Visto il tuo curriculum. Grazie, sono onorato. Probabilmente l'avrebbe pronosticata poco alla luce dei miei due anni ancora di contratto che avevo lì ad Ascoli. Quindi è stato tutto svolto in una settimana, la bontà del progetto che mi hanno proposto il general manager Iaconi e il direttore Iachini, la fiducia che ho avuto nella loro concretezza più che nei loro programmi, perché come dicevo prima a fare programmi magari sono bravi in tanti. Poi ad avere a sentire, ad avvertire la fiducia di concretezza su quei programmi invece è un qualcosa che devi sentire dentro, ho sentito questo dentro e quindi sono felice di essere arrivato qui a terra. Credo che sia assolutamente naturale che di fronte ad un progetto di questo tipo i contratti siano lunghi e i cinque anni ci stanno tutti, ma se dicessimo che gli anni in realtà sono quattro o addirittura tre diremmo una stupidaggine, nel senso che ci sono problematiche diverse da affrontare in questo inizio di progetto. Se mi riferisco, nel settore giovanile dobbiamo parlare di due fasi, una organizzativa e l'altra tecnica, tecnica nel senso di talento che viene fuori da questo lavoro. Come parte organizzativa sarei molto più ottimista dei tre, ma anche molto più ottimista dei due. Io vorrei provare entro l'anno, quando dico addirittura entro dicembre, ma mi sento troppo ottimista in questo senso. Ma comunque entro la stagione calcistica a organizzarci bene con quelle figure di cui parlavo in conferenza stampa che abbiano le precise caratteristiche per stare a fianco ai giovani e farli crescere in senso lato a 360 gradi. Per quanto riguarda la parte tecnica, invece è un discorso che facevamo prima, è che biologicamente dobbiamo essere bravi. In tre anni significa andare a cercare immediatamente il sedicenne di talento. Chiaramente i sedicenni bravi in Italia ormai hanno tutti già fatto un loro percorso, di prima fascia e di seconda fascia. Se siamo bravi a individuare qualcuno che ha avuto un ritardo di crescita, ma comunque talentuoso, con il quale lavorare per poter anticipare certi tempi, quindi parliamo di ragazzi di 2003, per essere ancora più precisi, magari nei tre anni di cui parlava lei possiamo sperare di potercela fare. Quando io parlo in questa maniera dico speriamo di potercela fare, uso il condizionale, mi tengo cauto. Lo faccio per indole, lo faccio per esperienza, ma se posso bruciarli in questi tempi chiaramente proverò a bruciarli. Resterà qualcuno del settore giovanile tecnico inteso come allenatori con il progetto di Mascio? Io credo che ne resterà più di qualcuno e avrei avuto voglia di farne restare più di qualcuno, ma nelle difficoltà nelle quali si sono trovati l'anno scorso alcuni di questi avevano problemi di lavoro che non permettevano loro di poter essere presenti con costanza al progetto che invece vogliamo portare avanti. Posso chiederti i nomi? Sui nomi io adesso sto ascoltando tutti, mi parlano adesso, fare nomi mi sembra anche inopportuno, anche per la privacy, anche perché qualcuno di questi potrebbe magari trovare lavoro in altra società dove non gli è richiesta questa presenza così costante e parliamo di professionisti importanti, veri, che c'erano e che magari potrebbero fare fatica a entrare nell'oneroso progetto di impegno che noi abbiamo. Però credo, ma molti li conoscevo anche perché essendo, non vengo da Mantua o da Canicattì, quindi li conoscevo, erano ragazzi splendidi che magari spero sposino quella che è la mia filosofia perché poi si possono avere filosofie diverse, arrivare allo stesso traguardo attraverso filosofie diverse, però è pur vero che deve essere unica questa filosofia. In questo momento sono stato chiamato io a cercare di portare quella che è stata la mia esperienza in questi anni. Mi auguro di trovare persone che vogliono sposarmi, sposare questo modo di vedere calcio e soprattutto che abbiano tanto tempo e caratteristiche. Grazie. Grazie.